Le ricadute positive dei mondiali di ciclismo sulle città che tra il 22 e il 29 settembre ospiteranno le gare cominciano a vedersi, in particolare a Firenze dove il Comune ha potuto mettere assieme un milione e mezzo di euro, sfruttando i ribassi previsti dalle gare d'appalto per i mondiali. Un milione e mezzo extra al di fuori del patto di stabilità. Siamo riusciti a mettere insieme questo milione e mezzo che spenderemo sugli impianti sportivi, su impianti sportivi che avevano bisogno comunque di interventi, non sono interventi in più che facciamo in occasione dei mondiali, ma sono interventi di cui gli impianti avrebbero avuto comunque bisogno. 400 mila euro sono serviti a risistemare il campo da rugby del Padovani, tribune comprese, abbellito nei muri esterni dai lavori degli artisti del gruppo Donatello che hanno anche rifatto questo disegno di Vinicio Berti. Il resto dei fondi è servito invece a ripavimentare il Mandela Forum, che nei giorni del Mondiale diventerà il Media Center, la sala stampa per tutti i giornalisti del mondo. Non solo, una parte del milione destinato alla struttura servirà ad ampliare il palazzetto, trasformandolo nella casa della squadra di pallacadestro di Siena, la menzana che in futuro giocherà qui le partite di Eurolega.